Musica Nell'episodio precedente siamo andati dal balista a portare i documenti che abbiamo recuperato dal laboratorio X16 E c'è dato una nuova missione, quella di entrare nelle antenne Aspettate ragazzi, non c'è stato a capire niente, eh Raggiungi le antenne, anzi dobbiamo disattivare praticamente il brucio cervello Adesso come prima cosa dobbiamo disattivare le antenne Tutto qui dei compagni, questo è morto Che, 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 oddio Che succede? Va bene Non, 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 facciamo finta di nulla Vediamo cosa c'è lì dentro, secondo me c'è qualcosa Ok, che, abbiamo, ok siamo troppo pesanti Dobbiamo consumare in qualche modo I nostri livelli Vediamo qui contanto cosa c'è, nulla Possiamo andarcene Alle antenne sono, non sono nemmeno troppo distanti da qui Che, che, oddio Anomalia, oddio, attenzione Oddio Oh Oh, stavo a morire Cavolo Curati, curati, ok Madonna Stavo già a morire, stavo Va bene Sono solo dettagli ragazzi Sono solo dettagli Adesso consultiamo qui un attimo i cartelli Un po' Cos'è un nemico? No Ok, ci, si, si capisce tutto, si capisce Il russo si capisce proprio al volo È una lingua molto comprensibile Allora, trovo l'entrata dal bug di controllo Disattiva la macchina Qui dò un'altra anomalia Giorniamo lì attorno Vai, forse è meglio Eh, dobbiamo camminare però sempre così piano Che palle Solo per Ok Si sta finendo la barriera Infatti Ok Facciamo un altro salvataggio qui veloce Così, tanto per esserli sicuri Ok Questi sono tutti i compagni Sento anche quello che suona la chitarra là Ok, questo sembrerebbe un avamposto Alleato Ok, qui non c'è nulla Questo dovrebbe essere, diciamo, il capo Vediamo un po' Parliamoci un attimo Vediamo che dice Intanto che vediamo un po' che arma c'ha Fermate un attimo Bella, bella Voglio pure io Chiarissimo Compra vendita Ecco, vendiamoci qualcosa Così Ci Ripendiamo un po' di Di peso Ristabiliamo un po' il peso Così Ok Peso Peso adesso Peso complessivo Perfetto Abbiamo Quasi due kg Ci siamo tolti Adesso Che dobbiamo fa' Aiuta a distruggere A palla con la comandata L'amposta alla barriera Aiuta A scuola all'assalto di monolith Ok Diamo una mano a questi soldati Allora Guardate che corsa da olimpiadi Guardate che bellissime armi che hanno ragazzi Magari se muore uno di questi qui Ce la rubiamo Mi sa che intanto le munizioni ce le abbiamo già Ok Stanno aggando i nemici Quelli sono le bagliere contro di loro Però a quanto pare Non funzionano bene Sta splendendo tutto per nulla Perché Comunque Facciamo esplodere quello Ok Qualcuno dovremmo aver ucciso Allora avviciniamoci Ok stiamo soffrendo anche la fame In questo momento Proprio Un momento molto opportuno Ok avviciniamoci magari un pochino Ok L'Italia sarebbe salire su quella torre Vediamo se riusciamo ad arrivarci Senza Venire uccisi Ok uno l'abbiamo ucciso anche da qui Ok saliamo Ok vediamo Da qui dovremmo avere una buona visuale di tutti i nemici Ok Oh poi c'è stata una butta giù Troppo ce la distruggono Ok Non sono rimasti tanti nemici Rimasto uno laggiù Ok ragazzi Mi dà il meglio se scendo perché qua Sta per crollare Ok Eh sono tossi da uccidere ragazzi Madonna Oh Ok Vediamo un po' Oh stanno entrando Stanno State quanti Madonna Sto a morire Sto a morire Sto a morire Ah sono morti tutti i compagni Ecco perché sono rimasto da solo Oddio E' mo' che faccio Ah no Quello là è ancora vivo Ok cerchiamo di Di aiutarlo allora No va bene abbiamo altri compagni vivi Ok Meglio Meglio così Pensavo di essere rimasto già da solo Ok Dobbiamo avvicinarci Da qui non li prendiamo Dobbiamo proprio avvicinare Scusate ragazzi se parlo poco durante le sparatorie ma Devo stare concentrato Ecco appunto Se no Facciamo una brutta fine proprio Ok niente niente Non muoiono Non muoiono Sto a morire io però Parlo il comandante Te la rompo sarebbe Che proteggi i confini Uno Obiettivo alla volta eh Ok rimasto solo Questo di nemico Oddio non muore Ok Ok Direi di prenderci un po' di emulsioni ragazzi Adesso Tanto col peso L'abbiamo diminuito veramente parecchio Però ci servono emulsioni Della M4 Non ce l'hanno Questo Oh guardate ragazzi Che miti Questo dovrebbe essere Un fucile È un fucile da secchino Prospera raffica Quindi direi di toglierci la cappa Sì Ci togliamo la cappa Messo ce l'ho Eh Dove lo vendiamo però Ok Glielo diamo a lui Queste E ci E gli diamo anche tutte le emulsioni per la cappa Tanto questo è morto Non gli servono E ci prendiamo La sua arma Proviamola un po' Questi sono i nemici? No Ok Proviamo un po' com'è quest'arma ragazzi Ok Non sembra male Non sembra affatto male Ok prendiamo ancora le emulsioni Medikit Perfetto Lì c'è un altro nemico Ok Intanto parliamo con il comandante Un attimo Grazie Ok Ci ha dato anche Ci ha dato dei soldi Bene E Vediamo un po' Vediamo Ah queste qua sono le cose che gli ho dato io Niente Possiamo rimanere così Ok vediamo un po' C'è un aggiornato intanto gli obiettivi Ok Dobbiamo tornare Già Torniamo al nostro obiettivo principale Quello di raggiungere le antenne Prendiamoci una bomba Medikit Ottoriamo un po' di munitioni Ok Perfetto Queste Vanno benissimo Ok Un'altra Bomba E un medikit Vediamo un po' il peso 47 kg Direi che può abbassare le munizioni Abbiamo veramente un sacco per questa arma Quindi direi che possiamo andare Aspettate ragazzi Mi è venuto in mente una cosa eh Facciamo Quello che gli ho dato la K47 io Quale erano? Questo Smontiamo un attimo Prendiamocelo Smontiamogli il melino Perché forse è possibile utilizzarlo per Per questa qui Vediamo un po' No Ok niente Vabbè il melino ce lo teniamo Dai Ok possiamo andare avanti Andargli all'occessivo Certo che si Perfetto abbiamo trovato una nuovissima arma Che in teoria sarebbe fucire da precisione Ma spara a raffiche brevi Tutto silenziato Quindi è anche buono Adesso stiamo entrando ragazzi Proprio nella centrale di Centrobil Quindi proprio da dove Nascono le radiazioni E dove si tranno sicuramente I problemi più grandi Di tutto il gioco Quindi speriamo di Di sopravvivere insomma Di riuscire a fare La nostra missione Tanto stiamo per entrare nel Ok torno indietro per il premio Torno indietro per il premio Ok non ci importa il premio Non ci importa Ah proteggi il confine Si dovrei andare ai depositi dell'esercito No non ci importa Andiamo Qui Anche qui vediamo tutti i teschi Il che non promette bene ragazzi Il che non promette per niente bene Quelli sono nemici? Si Però sono soldati Non sono zombie Quindi Meglio così Proviamo un approccio stealth Ok qui radiazioni ragazzi A go go proprio Allora Dobbiamo metterci la tuta Antiradiazioni per forza Quindi siamo molto meno protetti Quindi modiamo molto facilmente ragazzi Dobbiamo stare veramente molto attenti Allora Eh le radiazioni ce le prendiamo lo stesso Ragazzi no Non possiamo nemmeno passare qui Non c'è Non so cosa Non so cosa dobbiamo fare ragazzi Non so veramente cosa possiamo fare Perché Possiamo passare di qua Ok di qua Possiamo passare Intanto salviamo Ci abbassiamo Vediamo se riusciamo Ad ucciderlo Ok perfetto Un colpo a destra È molto precisa quest'arma Vabbè Essendo un fucile di precisione Mi sembra il minimo Oh Mori Mori Ok Facciamo attenzione Eccolo laggiù Perfetto No non è morto Sì è morto La bomba laggiù Così Oh è spuntato da quest'altra parte Ok Dov'è Eccolo Mori Perfetto L'abbiamo sistemati per bene Ok Lobo gun avevano Prendiamoci una cosa Antirazioni Così Un'altra cosa Antiradiazioni Che ci serviranno Parecchio Qui Ho visto che Non è una zona Molto Sicura È un po' qua dentro Che c'avevano Rompiamo sto coso Munzioni Per il fucile a pompa Però I dardi per il fucile a pompa Non ci servono Prendiamo le munzioni modificate Per la pistola però Queste sì Sono utili Vediamo un po' qua Questo che aveva Prendiamoci soltanto No le munzioni della cappa Non le voglio Non ci faccio assolutamente nulla Ok Direi ragazzi Che per questo episodio Possiamo anche concludere qui Abbiamo fatto veramente Un sacco di progressi Abbiamo trovato anche Un'arma molto Buona Sarebbe Una mezza specie di fucile di precisione Però Possiamo accontentarci Quindi ragazzi Come sempre Se vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Se siete già Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche alla pagina di facebook Tra la descrizione di questo video E niente Poi questo sia tutto Siamo arrivati al prossimo video Più naso tutto E bye bye Grazie a tutti Grazie a tutti